Fino al primo giugno alla Biblioteca della Regione Piemonte la mostra Tra le Pagine, il segnalibro dal nastrino di seta colorato al design. L'esposizione propone una selezione di circa 150 segnalibri provenienti dalla collezione di Daniela Bongiovanni, che conta oltre mille pezzi. Si spazia da quelli inglesi di fine ottocento a quelli coloratissimi per bambini, fino ai contemporanei, frutto della creatività di designer e illustratori. Questa mostra raccoglie una piccola parte, circa 150 segnalibri, che fanno parte di una collezione molto vasta di circa di più di mille segnalibri. La collezione non è fatta solo di segnalibri moderni, quindi facili da reperire, ma raccoglie una serie di segnalibri che vanno dal 1800 al giorno d'oggi. Ci sono alcuni pezzi particolari, alcuni pezzi direi abbastanza preziosi, a parte quelli molto vecchi, fino ai 800, ce ne sono altri illustrati da illustratori famosi.